musica cari amici benvenuti in questa nuova puntata di minecraft ed eccoci pronti a mostrare una nuova fantastica creazione realizzata con l'unico common black and vanilla stiamo parlando del cannone lanciafiamme by ajam minecraft grazie questa volta potremo avere a disposizione un testificator che schifo come è il testificator che spara fiamme dalle narizie? ma che cos'è sta roba? salve vuole uno smeraldo e si è trasformato in un black e tear salve cosa mi da? una piccola bertha è un piccolo coniglietto sicuramente un piccolo tenero coniglietto che ci accompagnerà nei nostri assedi distruttivi delle fortificazioni delle birch abbiamo preso un bersaglio perfetto abbiamo anche un rimuovi il bersaglio nel caso non ci vada bene abbiamo il lanciafiamme e poi una possibilità di ruotare gli oggetti ovvero il lanciafiamme nel caso non sia dove lo volevamo noi quindi grazie mille testifiche poi sperimenteremo su di te la nostra furia omicida cara piccola bertha a farci vedere i tuoi occhiettini dolci oggi siamo pronti? è alta piccola bertha che tenerezza allora questo è un cannone per caricarlo come vedete da questi posti di redstone se ci lancerete addosso della TNT questa si caricherà potete lanciargli fino a 8 blocchi di TNT alla volta se le lanciate più di 8 iniziano a sparire e quindi non vi conviene perché li perderete e basta a quel punto una volta caricato del numero che volete anche uno solo va bene ma perché no usatele tutte 8 scegliete il punto in cui volete bersagliare casualmente una birce questa ignara birce quando siete pronti lanciati una gunpowde e fare fuoco alle polveri e via chi l'abbavano è lanciata 3 2 1 mettraversata TNT ok si stanno lanciando verso l'alto TNT a breve inizieranno a cadere sulla terra e l'apocalisse anti birce sarà pronta dai con uno sono disintegrate addio ciao maiale vuoi anche tu partecipare alla lotta anti birce vuoi fare il barbecue dai dai vai anche tu che ci si diverte tutti bellissimo ha di sotto anche come effetto collaterale un'altra scusate ora è andata dove poi vedete è girare con questa piccola aberta in tasca è comoda che poi si riduce tipo un carrion e poi suona quando è pronta come vedete la cosa bella e oltre che potete caricarla comunque quante volte vi pare è il fatto che potete usarle anche più alla volta dove diamine le fate sparare non lo so non c'è il bersaglio non lo so dove spara non devi dargli un posto dove andare a finire è molto importante che voi mettiate un bersaglio che una volta che sarà stato colpito a quel punto sparirà dopo un po' altrimenti non sparirà mai l'unico modo dovete fare voi direttamente il remove mark quindi adesso ne selezioniamo un po' tipo contro questi teneri piccoli maiali e la carichiamo con qualche colpo magari anche solamente tre colpi o anzi facciamo quattro farvi vedere e o quelli che ho messo comunque e siete pronti a lanciarlo voi potete utilizzare più cannoni alla volta e anche più bersagli alla volta e verranno attivati in modo del tutto casuale quindi guardate vanno per arrivare qui sotto attiviamo anche questo perfetto uno sta colpendo sempre in quello centrale quello invece sta colpendo in quello laterale e adesso due volte in quello vediamo se vanno anche esattamente in quello a destra quindi come avete visto potete utilizzare sia più cannoni alla volta sia più bersagli alla volta quindi potete utilizzare questi cannoni per colmare la vostra sete di sangue legnoso ovviamente l'infa l'infa di birce che muore e brucia siamo tutti più contenti giustamente vediamo tra l'altro siamo anche caricarli più velocemente vogliono lanciare tanti insieme guardate si potete caricarli anche in fretta e furia tutti così oh che bello ok l'ultimo attacco devastante contro delle birce imparate una sopra l'alto ma che è quante le stai mettendo ho già caricati ah sono generose dove sono le birce imparate mettene in palale qui vai perfetto mettene qualcosa su un altro e vediamo la furia destruttiva di quattro piccole berte alla volta questo qua sta facendo un sacco di lucettine che bello le caricate tutte l'abbiamo buggato sicuramente e vabbè siamo noi è normale fisiologico noi non solo troviamo i bug noi li creiamo noi stessi siamo degli errori di programmazione ok basta basta direi di andare con il bersaglio e vediamo un pochino se queste piccole berte mettete anche più di uno bersaglio in giro per la vostra cione no voglio vedere se riesce a fare tutto da solo ok pronto il primo attivo ok il secondo attivo il terzo minimo è buggato ma noi ci proviamo lo stesso e il terzo si spera che sia attivo anche lui ok via guardate via stanno sparando allora sparando tutti sparando tutti anche quello buggato oh sta arrivando la fine del tempo per le birch ovviamente il destino è segnato da un'esplosione ma guardali lì come svaniscono che cosa bella oh che bello e anche le vostre radici saranno radiate dall'albo degli alberi quando si dice sparare alle birce col cannone esatto esatto visto perché le birce non si possono attaccare con i fiori ma con i cannoni si ma non diceva di mettere fiori nei vostri cannoni no allora io vi mostrerò adesso il secondo bellissimo oggetto che questa mod in vanilla vi offre è dedicato al benessere dei testificate il lanciafiamme siamo pronti? sì io direi che dobbiamo attivarlo per attivarlo vi basterà utilizzare un blocco di carbone qui sopra maiale intelligente se ne volte serve che non è intelligente invece non so si sposti un attimo buon uomo perché se no non riesco a ucciderla grazie ed ecco fatto tornali tornali buon uomo non torna vai il buon maiale ci è andato guardate una cosa interessante il lanciafiamme non è sempre attivo è attivo solamente quando un'entità ci sarà vicina potete essere voi come giocatori o possono essere per esempio degli oggetti come per esempio un blocco qualunque oppure direttamente un mob quando si avvicinarà al mob vedrete che si attiverà fin tanto che sarà lì vicino e quindi è molto comodo per creare delle trappole trappole se volete potete comunque ruotarli per farli funzionare nel lato che vi piaccia per esempio così avete la casa completamente protetta dall'intrubio esatto si mettono da tutte e quattro le direzioni venga direzione si giri si giri ed ecco fatto abbiamo girato dappertutto e guardali quanto sono contenti questi testifiche di andare in fieme e così via se volete potete anche bloccarlo nel caso proprio vi dispiace di questi testifiche boiere mettendo dell'acqua sopra che tristezza e qualunque momento dovete comunque sempre riattivarli con dei blocchi di carbone e altrimenti dovete anche mettere un'infinità uno vicino all'altro per fare una strage venga qua testifiche si venga qua ecco qua da che lato vanno questi tutti dello stesso da questo lato si allora blocchiamo il passaggio attenzione così lo blocchi il passaggio attenzione così lo blocchi forse M non è stata M no M come distrugge hai rovinato una mezza aberta qui creazione a catena e sono ancora vivi questi si no ho fatto un disastro ok attenzione che potreste attivare delle TNT e una dopo l'altra uno mi sa che tanto l'ho buggato lo stesso che non si è creato mai dare a noi qualcosa di tecnologico in mano ok ecco fatto guardate uno dopo l'altro mettiamo dei tieni blocchi di carbone tipo così uno dopo l'altro e i testifiche ci moriranno vai andate incontro il vostro destino dai bello il vostro destino un destino molto caldo molto caldo esatto avete vinto le vacanze nel Y? no ma in un vulcano si ok ed ecco fatto benissimo quindi noi vi ringraziamo tantissimo per essere stati con noi in questo nuovo video su una cuncuman un singolo comando che crea distruzione in questo povero mondo di minecraft e io direi che è stato bellissimo distruggere queste Bertha e quindi direi di distruggere qualche altra Bertha già che ci siamo ok Bertha muori grazie a tutti per essere stati con noi eeeh alla prossima ciao eeeh che è nuovo ciao ciao Ciao!